Svecchiare il comparto del trasporto pubblico su gomma e regolare il pagamento degli stipendi mensili agli autisti. Sono questi gli obiettivi principali che si sono imposti i sindacati CISAL, CISL e UIL in accordo con la Giunta regionale e in testa l'assessore a ramo Pierpaolo Nagni. Antidiluviana viene definita dagli stessi lavoratori la gestione del personale. Licenziamenti, sanzioni legittime, ritardi negli stipendi e nel versamento ai fondi previdenziali sono le inefficienze quotidiane che appesantiscono e di molto il servizio di trasporto degli autobus sulla rete viaria regionale. Tra le reticenze e le timidezze dei lavoratori qualcosa sta cambiando, ma il tasso di inefficienza, precisano le organizzazioni sindacali, resta ancora molto elevato e viene calmierato solo attraverso il crescente impiego di risorse economiche pubbliche. L'iter del bando di gara per l'assegnazione del trasporto locale è ormai pronto per essere pubblicato, con molta probabilità non prima di un mese, subito dopo la sentenza del Tribunale amministrativo sul ricorso presentato dalla ditta ATM. In ultimo la Giunta, Palazzo Vitale, per regolarizzare il pagamento delle spettanze mensili agli autisti, si avvarrà del parere dell'Avvocatura di Stato. Il parere positivo potrebbe dare le certezze che i dipendenti sperano, senza ricorrere a scioperi o azioni legali.